eccoci qua ragazzi grazie grazie a tutti per insomma avermi fatto aggiungere questo piccolo traguardo dei 500 iscritti che coincide praticamente quasi con il primo anno del canale che avverrà il 14 novembre sì ok ho fatto questo video per ringraziarvi molto e per dirvi che questo mese non farò video perché sono un po impossibilitato e chi mi segue un po più assiduamente lo sa che sono in quarantena perché io e mia moglie tutte e due siamo positivi al covid-19 e quindi adesso stiamo bene ma purtroppo siamo ancora positivi ai tamponi e dobbiamo rimanere in quarantena non ho quindi non posso andare in edicola non ho tanta possibilità che qualcuno mi porta i fumetti piano piano magari se devo rimanere ancora gli acquisterò online ma non faccio un tempo a leggerli insomma a portare qualche video sul canale perché è tutto un po scombussolato comunque la casa non è tanto grande siamo un quattro due bambini piccoli sono un po impossibilitato a girare e anche a girare insomma per quanto riguarda il video collezione che arriverà quando insomma saremo meglio e potrò insomma essere più libero di girare senza interferenze esterne lo farò molto volentieri comunque volevo ricordare che di seguire la pagina facebook dei nerd che trovate in descrizione perché insomma ci sono dei nuovi new entry nel gruppo dei nerd altri canali e più cose si stanno insomma muovendo anche sulla pagina più video più avvenimenti più tutto che potete trovare appunto sulla pagina e quindi insomma andate andate a vederla che è molto molto interessante come sempre ragazzi il miglior supporto potete fare al canale dove dopo che vi siete iscritti insomma condividerlo condividi i video sui social e tutto quanto per far insomma conoscere il canale a più gente possibile che vi rinnovo ancora tutti tutti i miei veramente ringraziamenti e un saluto a tutti i vecchi iscritti a tutti i nuovi iscritti come al solito fare come volete mettete un like lasciate un commento insomma come volete e io vi saluto un abbraccio e ci vediamo più presto ciao a tutti